Prima di tutto c'è da fare un grande applauso a questo pubblico che oggi credo è sold out, poco meno forse, però in un giorno di festa questo fa capire la voglia di pallavolo che c'è in giro per l'Italia, fa capire che la pallavolo Padova sta lavorando bene sul territorio e questa è la cosa più importante. Riguardo la partita è chiaro che giocavamo contro i primi in classifica, si è visto soprattutto nei momenti che contano e questa è la differenza sostanzialmente con un altro tipo di squadra, con noi che dobbiamo combattere per un altro obiettivo che è la salvezza. Dispiace per un secondo set fatto punto a punto, per un terzo ugualmente punto a punto, alla fine sono usciti i campioni e l'abbiamo visto.